No, figa Jack, mi viene quasi da piangere, che Dio ti benedica, se non ti fossi il tuo a barattare i bambini con queste infime droghe africane che me le porteremmo. Oh, sì figa, sei proprio un altro. Ora sì che mi sento bene, sembra avere una frittura di scampi al posto dei polmoni. Uè Jack, senti un po', ma ti vedo un po' strano, è qualcosa che non va, anzi in verità non ti vedo proprio perché ti sei arrampicato sul soffitto.